Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con crema di carciofo e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono pasta corta, gambi di carciofo lessati, aglio, olio evo, panna da cucina, pancetta a cubetti, pecorino grattugiato, sale, pepe, prezzemolo e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e mescolarla al dente. Mettere nel boccale l'olio e l'aglio ed azionare il bimbi per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, mettere i gambi di carciofo, l'acqua ed azionare il bimbi per 8 minuti 100 gradi, velocità 2. Aggiungere il prezzemolo e tritare per un minuto a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la pancetta, la pancetta, la panna, il sale, il pepe ed azionare il bimbi per 3 minuti 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere il pecorino ed azionare il bimbi per un minuto, antiorario, velocità 1. Condire la pasta e servire. Pasta con crema di carciofi e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.